buonasera dal millennium prima giornata di christmas cup si affrontano realtorretta contro santos calci punizione per il realtorretta occhio a barone uno schema il tocco per marino che finta il tiro ha capito tutto però panzeri ma marino riesce a calciare in porta poi in seconda battuta col mancino e da di guarino che prova a partire allunga la falcata arriva giordano giordano ruba il pallone a guarino ma lo fa carambolare in rete 2 a 1 ciò di rigore per il realtorretta che ha l'occasione per trovare gol del pareggio calciamarino rigore perfetto spiazza il portiere realtorretta 2 santos guarino in area di rigore davanti al portiere ancora guarino 3 a 2 diventa al fondo palla giocata verso borrello rischiosissima perché barone recupera il pallone e c'è marino che trova il gol della 3 a 3 tripletta di marino ma che guarino passa entra in area di rigore salta nel portiere guarino torna avanti il santos ancora una volta guarino 4 a 3 in placar alaia palla verso gennarelli attaccato da spadera si gioca per il vantaggio alaia fa tutto da solo il tiro è il miracolo della difesa con dato che salva sulla linea evita il gol del guarino che entra in area di rigore guarino 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 dal destro palla cresce lì frascogna col sinistro palato frascogna ancora bastroianni incredibile monumentale il barone col mancino al centro il colpo di testa palla che carambola sul fondo e finisce qui il santos si aggiudica il match per 4 a 3